Immagini che vi giungono dal Parco Aldomoro di Ciampino nel giorno in cui si è disputata la prova del Cross Cup Lazio Trofeo Romano Scotti in cui si sono assegnati i titoli regionali di ciclocross per quanto riguarda la feder ciclismo laziale. In questa giornata c'è spazio anche per i giovani, per gli atleti della categoria G6, ovvero una categoria non ancora agonistica. Sono i ragazzi che nel 2015 faranno il loro ingresso nel ciclismo agonistico e che comunque si sono dati battaglia in questa prima gara di giornata. Nonostante questi atleti non combattano per il titolo di campione regionale, è stata un'ottima partecipazione. In testa alla gara troviamo adesso Lorenzo Conti della Ternana Ciclismo, lo vediamo impegnato in queste fasi di gara. Lo vedete con il dorsale 91 in testa ma dietro poco lontano tutti gli altri. Una ottima riuscita, una prova che raggruppa sia atleti della categoria maschile. Attenzione la scivolata di Lorenzo Conti, dicevo atleti della categoria maschile e atleti della categoria femminile. Nel frattempo con le immagini siamo al primo passaggio sotto il traguardo, troviamo Filippo Mancinelli della scuola Mountain Bike Roma in testa. Lo vedete nelle immagini della nostra telecamera. Una prova che dicevamo non è una prova agonistica, è una prova riservata agli atleti che nel 2014 hanno svolto l'attività della categoria G6 e che non avendo ancora iniziato l'anno dei 13 anni, quindi atleti che hanno compiuto 12 anni nel 2014, non possono partecipare alle categorie agonistiche. Ancora in testa, lo vedete nelle immagini in questo frangente, Filippo Mancinelli, scuola Mountain Bike Roma, sta pedalando molto bene dopo la scivolata di Conti che si era portato alla comando nelle prime fasi di gara. Alle sue spalle troviamo Andrea D'Alessio, scuola Soriano Ciclismo e terzo Lorenzo Chiarelli dell'Atletico Monte Rotondo. Questi sono i primi tre atleti della prova maschile. Adesso andiamo a seguire anche la prova femminile in testa a questa gara. Troviamo Chiara Liverani del Cycling Team Pomezia. È la ragazza che sta guidando la prova riservata alle G6 femminili. Una prova breve, misura 20 minuti di durata complessiva, che però è stata vissuta con clima intenso e grande partecipazione da parte di tutti gli atleti che hanno preso il via. C'è tanta voglia di far bene in questi giovani ciclisti. Intanto torniamo in testa, ancora Filippo Mancinelli, scuola Mountain Bike Roma, ormai saldamente alla comando per quanto riguarda la categoria maschile. Non dovrebbe essere un problema per lui conquistare il successo, come vedete ha un vantaggio notevole nei confronti di D'Alessio e Chiarelli, che sono in seconda e terza posizione e noi continuiamo a seguire il leader della corsa, Filippo Mancinelli, che come vedete ha un vantaggio di tutto rispetto nei confronti del secondo e terzo. Aspettiamo adesso anche la testa della corsa femminile per fare il punto sullo svolgimento della prova riservata alle ragazze della categoria G6. Vi ricordo che stiamo seguendo la prova valida come tappa del Cross Cup Lazio Trofeo Romano Scotti ed eccoci con Chiara Liverani ancora in testa, dicevo, prova inserita nel Cross Cup Lazio Trofeo Romano Scotti che si è svolta a Ciampino. Lazio terra di grande ciclismo, specialmente di ciclismo ciclocross, con una stagione davvero interessante e ricca di grandi eventi. E' intanto sul traguardo con il vittorioso Filippo Mancinelli che conquista il successo, veste i colori della scuola Mountain Bike Roma, seconda posizione per Lorenzo Chiarelli dell'atletico Monte Rotondo e andiamo a completare il podio con Andrea Dalisiero che conclude in terza posizione. Attendiamo anche la conclusione per quanto riguarda la prova femminile dove era saldamente alla comando Chiara Liverani, Cycling Team Pomezia. Ed eccola qua, conclude vittoriosa la prova della categoria femminile G6, la ragazza del Cycling Team Pomezia, Chiara Liverani. Con il rallenty del successo di Filippo Mancinelli, vi ricordo ancora una volta le due vittorie, quella del corridore della scuola Mountain Bike Roma, Filippo Mancinelli tra i maschi e Chiara Liverani tra le ragazze. Filippo Mancinelli tra i maschi e Chiara Liverani,